Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso che mi ha colpito parecchio. Non ci sono molte informazioni online su questo caso e come sapete io amo andare a fondo. Anche per questo video quindi ho tentato di dare il meglio di me, spero davvero vi piaccia. La maggior parte delle fonti che sentirete in questo video arrivano dal processo di un giorno in pretura. Cercherò quindi di essere il più lineare possibile per raccontarvi i fatti, ma non è così semplice perché in questo processo i due imputati si incolpano a vicenda in continuazione. Prima di iniziare vorrei fare delle premesse. Tutte le persone che sono state sentite in tribunale hanno una parte del volto sfocato. Di conseguenza per me è impossibile trovare le loro foto senza censura. Ma posso comunque inserirvi nel video le foto col volto censurato, almeno per farvi capire a chi io mi stia riferendo. In questo caso inoltre c'è un'altra cosa che manca, ossia i nomi. Conosciamo con sicurezza i nomi della vittima e degli imputati, nient'altro. Quindi per rendere più chiara la narrazione ho deciso di inventarmi dei nomi di fantasia. Perché tra un testimone e l'altro a mio parere è davvero tanto, troppo facile perdersi. Questa secondo me è una storia importante che va ricordata. E se va ricordata è necessario ricordarla nel modo giusto, mettendo anche i puntini su lei. Questa però è anche una storia molto delicata che va a toccare diverse sfere. C'è la sfera familiare, c'è lo sfruttamento, c'è la giovanità della vittima. Forse è troppo ingenua o forse è troppo orgogliosa per tornare indietro. Ci sono molti nodi in questa storia, ci sono molti punti di domanda. Proverò dunque per quanto possibile a sciogliere alcuni nodi con voi in questo video. Ma so anche che molti di voi scriveranno la loro opinione tra i commenti. Seriamente per me è molto importante. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti riguardo questo caso. Ho deciso di riportarvi questo caso perché su questo canale, di questo argomento, non ne abbiamo mai parlato in uno specifico. Quindi oggi ho deciso di raccontarvi la storia di Gloria Pompili. Gloria purtroppo viene a mancare il 23 agosto del 2017. Viene trovata sulla strada dei Monti Lepini, nel comune di Prosedi, che per l'esattezza si trova nella provincia di Latina, nel Lazio. Ma andiamo con ordine, come al solito. Gloria Pompili nasce a Frosinone, capoluogo dell'omonima provincia del Lazio, il 18 dicembre del 1993. Dopo il divorzio dei genitori, finisce con suo fratello in una casa famiglia, in cui rimane dai 6 ai 18 anni. Quando Gloria va nella casa famiglia, ovviamente inizia ad essere seguita da degli assistenti sociali, i quali concludono che Gloria ha un disturbo cognitivo. Sembra più piccola della sua età, fa gesti infantili ed è piuttosto ingenua. Raggiunta la maggior età, Gloria decide di andarsene dalla casa famiglia, mentre suo fratello, ancora minorenne, resta nella struttura. Uscita dalla casa famiglia, Gloria si innamora di un ragazzo di nome Alex Durak, un ragazzo di origini rumene con cui mette al mondo due figli, Gabriele ed Emanuele. Alex Durak però ben presto viene beccato a causa delle sostanzine. Diciamo che era un corriere di sostanzine, quindi ben presto viene arrestato. È così che Gloria si ritrova come una cocua a dover mantenere due figli piccoli ed è seriamente in difficoltà in quanto non ha neanche un lavoro. È così che sua madre Carmela la riaccoglie in casa. Ora ha un lavoro, fa la donna delle pulizie e con il suo stipendio, sebbene poco ricco, riesce a mantenere tutti, sia sua figlia che i suoi nipoti. In quel periodo esce dal carcere anche Alex Durak, ma non c'è nessun ritorno di fiamma con Gloria. Alex infatti trova un'altra compagna, ma tenta di essere parecchio presente per i suoi figli, quindi passa a trovarli molto spesso. Arriva quindi la fine del 2015, quando Gloria decide di andarsene di casa, in quanto un giorno, mentre si trova all'ufficio postale di Frosinone, incontra una cugina di sua madre, una donna di nome Loide del Prete. Loide si avvicina a Gloria e gli dice che ha un lavoro apposta per lei. Infatti la può far lavorare in una frutteria. In questo modo Gloria avrebbe potuto prendersi cura dei suoi figli, avrebbe finalmente trovato un lavoro per mantenerli e sarebbe stata bene. Quella per Gloria è una proposta immensa, non può rifiutare. Quindi torna immediatamente a casa per fare le valigie. Quando sua madre la vede e le chiede dove stia andando, la figlia le spiega la situazione. Però Carmilla storce il naso, non è convinta, non si fida di Loide. Cerca quindi di convincere Gloria, sua figlia, a rimanere a casa con lei e a non andare via con Loide. Però di fatto Gloria è maggiorenne e può decidere della sua vita. Loide dal canto suo sostiene che ha semplicemente voluto dare una mano a Gloria, le ha offerto il suo aiuto e la ragazza ha accettato immediatamente. Però fin da subito ecco che emergono delle discrepanze. Loide sta insieme a un uomo di nome Salem Saad che in aula racconta questa storia. Lui, Loide e suo fratello Hedy vivevano a Guidonia. Loide ad un certo punto propone a tutti di andare a vivere a Frosinone col fine di stare più vicina a Carmilla e a Gloria. Il problema è che Salem era un immigrato regolare, mentre suo fratello Hedy, no. Suo fratello Hedy era un clandestino. Loide infatti dice a Hedy, Hedy ma, ascolta, se conosci e sposi una ragazza italiana, per caso ottieni il permesso di soggiorno? Hedy risponde, beh assolutamente sì, tu conosci qualcuna da presentarmi per sposarla? Loide ribatte, Ebbene sì, conosco una ragazza, è mia cugina, si chiama Gloria, te la faccio conoscere e poi, fidati, te la farò sposare. Questo è il destino di Gloria, che si ritrova in un matrimonio combinato ad appena 22 anni. Il fine di Hedy ovviamente è tutto fuorché romantico. Lui vuole sposare una donna italiana semplicemente per ottenere il permesso di soggiorno. Tutto qua. Tant'è vero che Hedy e Gloria si incontrano per la prima volta alla stazione di Frosinone. Ovviamente sono presenti anche Salem e Loide. Tutti e quattro si recano presso il comune di Ceccano col fine di celebrare il matrimonio civile tra Hedy e Gloria. Chiaramente Salem e Loide sono i loro testimoni di nozze. È così che le due coppie si trasferiscono e trovano casa in via Giuseppe Saragat a Frosinone. In quell'appartamento non c'è riscaldamento di conseguenza Hedy in tribunale racconta che Gloria e i suoi figli stavano nella stanza più piccola della casa per riscaldarsi più velocemente. Inoltre Gloria era già stata indagata nel passato per diversi reati, anche gravi, riguardo al fare la corriera di sostanzine. È un fatto però che da quando Gloria si trasferisce con Loide, Salem ed Hedy taglia i rapporti con tutti, anche con il padre dei suoi bambini. Prima, questi bambini facevano parte della sua quotidianità ma dopo il trasferimento di Gloria né Carmela, sua madre, né Alex Durak il padre dei suoi figli la vedono poi così spesso. A questo punto inizia, secondo l'accusa l'inferno personale di Gloria che si protrae per un anno e mezzo e che la porterà alla morte. Gloria si ritrova relegata in una stanza minuscola con un marito fittizio e con quella che, a quanto pare, è una coppia diabolica formata da Loide e Salem. All'inizio, un'unica persona che si rende conto delle condizioni di Gloria è la padrona di casa di via Giuseppe Saragat dove le due coppie vanno a vivere. La donna al processo è chiamata come la padrona di casa quindi io la chiamerò Rosa. Rosa dice tranquillamente in tribunale che per lei quella era la seconda casa quindi andava lì per risquattere l'affitto degli inquilini ma non solo in quanto Rosa aveva anche un giardino e degli animali di cui si doveva occupare. In generale, quindi, sia la proprietaria di casa, Rosa, che suo figlio si recavano in via Giuseppe Saragat almeno una volta al giorno se non più di una volta al giorno. Rosa a questo punto sostiene che le due coppie non avevano mai pagato l'affitto. Mai. Inoltre Salem aveva spinto, picchiato e fatto del male a Gino il figlio di Rosa arrivando addirittura a tirargli addosso delle pietre così dice Rosa in tribunale. A seguito di questo fatto Rosa spiega che sia lei che suo figlio a quel punto avevano il terrore di dirigersi in quella casa in via Saragat dovevano occuparsi degli animali è vero ma ormai si recavano in quella proprietà che peraltro era casa loro con non poca paura. Rosa inoltre racconta un particolare davvero tremendo e raccapricciante che ci fa capire immediatamente, a mio parere a che livelli di degrado ci troviamo e vi avviso siamo solo all'inizio. Rosa, la padrona di casa sapeva benissimo che nel suo appartamento vivevano anche due bambini ossia i due figli di Gloria Emanuele e Gabriele Sal e Meloide erano soliti appendere una specie di cesta con una corda alla ringhiera della terrazza del terzo piano si sta parlando di circa 3 metri di altezza e cosa ci facevano con questa cesta sospesa? ebbene questi esseri mettevano i figli di Gloria in questa cesta attaccata per l'appunto con una corda alla ringhiera della terrazza per poi farli penzolare a mezza aria perché Sal e Meloide facevano queste cose assurde mettendo effettivamente in pericolo la vita di Gabriele ed Emanuele? ebbene perché già a questo punto Gloria accoglieva i suoi clienti in casa altro che frutteria la ragazza si era trovata a dover andare con altri uomini per forza col fine di raccogliere del denaro da dare a Meloide e a Sal e a Sal e a Meloide si notavano uomini che entravano e uscivano da quella casa e spesso era Loide a prendere i bambini e a portarli fuori mentre Gloria portava a termine il lavoro questo vuol dire che Gloria non si teneva niente per sé era obbligata a dare tutti i soldi a chi la stava tra virgolette ospitando Gloria ovviamente non ha raccontato a nessuno della sua condizione sua madre Carmela era convinta che davvero la ragazza lavorasse in una frutteria le due si sentivano ogni tanto al telefono e Gloria diceva a sua madre che andava tutto bene era tutto a posto e lei era felice ma il suo lavoro era molto faticoso perché si doveva alzare molto presto la mattina e rincasava sempre molto tardi la sera per Carmela questi orari sono strani a quanto le risulta chi gestisce una frutteria non parte di casa alle 6 del mattino per poi tornare alle 10 di sera insomma questi orari le risultano un po' insoliti a questo punto la proprietaria di casa Rosa si dirige dagli assistenti sociali spiegando che ci sono delle persone che stanno occupando casa sua in via Saragat non hanno mai pagato l'affitto lei ha provato a sfrattarli ma loro proprio non si scollano di lì in nessun modo solo in un secondo momento Rosa riferisce agli assistenti sociali il modo in cui vengono trattati i bambini di Gloria in quella casa gli assistenti sociali però a questo punto si domandano se questa donna non abbia ingigantito la situazione lei vuole sfrattarli devono andare via ma dato che non se ne vanno il dubbio che Rosa abbia esagerato con i fatti c'è Rosa però si rende conto col rammarico che non viene presa sul serio almeno gli assistenti sociali non l'avevano presa sul serio quindi a questo punto decide di andarci giù pesante ma a modo suo cosa fa quindi Rosa ebbene un giorno andando nella casa in via Saragat nota la cesta appesa con la corda che sta penzolando dal balcone è vuota ed è più in basso del solito così si avvicina di soppiatto afferra un paio di forbici taglia la corda che lega quella cesta si prende la cesta e se la porta via a quanto dice Rosa poi non si è più aggiunta a nessun'altra cesta insomma questa corda è stata proprio tolta dalla ringhiera quindi inizialmente a quanto pare Gloria vende il suo corpo nell'appartamento in cui vive dopo poco tempo però a Gloria tocca andare in strada la portano dunque sull'asse attrezzato di Frosinone il punto è che mentre Gloria lavora Lloyd la segue in macchina la tiene d'occhio e porta con sé sempre anche i bambini di Gloria ci sono diversi testimoni che affermano di aver visto Gloria sull'asse attrezzato di Frosinone come una taxista che al processo ammette di aver accompagnato diverse volte Gloria presso quella strada Gloria però non le aveva mai detto di lavorare per strada bensì di lavorare in un ristorante il punto è che quella taxista durante la serata ripassava spesso proprio lungo quella strada e vedeva Gloria in strada più volte sempre nello stesso punto anche a tarda notte insomma Gloria non lavorava in nessun ristorante c'è inoltre un'altra prostituta che lavorava sulla stessa strada di Gloria in tribunale dice chiaramente che Gloria in strada ci andava tutti i santi giorni lei neanche andava di domenica Gloria però non mancava mai era lì a lavorare tutti i giorni della settimana mentre lei si allontanava per andare a prendere l'ultimo treno Gloria andava e tornava sempre accompagnata tranne quando si recava a lavoro con un taxi anche in quei casi comunque doveva aspettare che alla fine la andassero a riprendere per finire il suo lavoro questo significa che Gloria stava in strada per ore e ore sia di giorno che di notte intanto la madre di Gloria Carmela non è assolutamente a conoscenza del lavoro di sua figlia qualcuno le dice di averla vista spesso in strada ma Carmela evita di dar corda a queste voci però non evita di certo di chiamare Loide in cerca di spiegazioni Loide ovviamente dice a Carmela che non è vero niente che quelle sono solo voci che girano e sono pure maligne la verità è che ora Gloria sta bene ha trovato anche un ragazzo l'ha sposato vuole solo vivere la sua vita tranquilla il lavoro ce l'ha e va più che bene anche se è stancante Gloria non si butta mai giù e in effetti fa quel che deve per mantenere i suoi figli Carmela nonostante nutrisse dei dubbi su Loide dall'inizio ci crede sua figlia sta bene sta lavorando solo in una frutteria ha sposato un bravo ragazzo e sta crescendo i suoi figli al meglio il tempo intanto passa e Loide continua a fare quella che non sa nulla di questa situazione fa finta proprio di niente anche se gli amici e i conoscenti di Gloria la fermano per strada col fine di chiederle spiegazioni lei nega nega sempre è però un fatto che Gloria lavorasse in strada così com'è un fatto che Loide uscisse spesso in macchina con i bambini di notte per tenerla d'occhio i bambini quindi dormivano in macchina mentre la madre lavorava in strada in un secondo momento è stata Gloria a dire in giro che era vero faceva quel lavoro ma era una sua scelta nessuno la stava obbligando a fare niente Loide ovviamente si era ben presto allineata alla versione di Gloria molti sono convinti che Loide e Salem stiano costringendo Gloria a fare quel lavoro contro la sua volontà anche perché a quanto pare Gloria deve portare tutti i preservativi usati con i clienti a Loide in questo modo Loide ha la possibilità di controllare se sono presenti tutti i preservativi visto che la controlla sa quindi con quanti clienti va Gloria e vuole assicurarsi che la ragazza sia onesta in questo modo Gloria non può davvero tenersi neanche mezzo soldo per sé deve dare tutti i soldi che guadagna alla coppia a Salem e a Loide infatti a quanto pare quando Loide quelle rare volte non è con i bambini in macchina a controllarla Gloria accetta di avere qualche rapporto non protetto solo col fine di riuscire a tenersi qualche soldo per sé ovviamente alla fine anche Carmela la madre di Gloria viene a sapere della situazione e scopre tra l'altro che con i soldi che guadagna Gloria Loide e Salem hanno comprato la macchina nuova e hanno aperto e chiuso frutterie Loide però in tribunale da una versione totalmente diversa quei soldi infatti in realtà servivano a Salem che aveva ancora parenti in Egitto che necessitavano di aiuti economici il punto è che Gloria guadagnava davvero tanti soldi era obbligata a guadagnare come minimo 500 euro a settimana ora mettere ordine e narrare i fatti è davvero difficilissimo perché come già vi ho detto nel processo di un giorno in pretura i due imputati si incolpano a vicenda in continuazione secondo Salem era Loide a gestire le entrate era lei a gestire i soldi che guadagnava Gloria comprando quel che più preferiva Salem per di più in tribunale sostiene che anche lui doveva chiedere i soldi a Gloria anche solo per comprarsi un pacchetto di sigarette in quel pochi periodi in cui non lavorava perché bisogna sottolinearlo lui a differenza di Loide un lavoro ce l'ha sempre avuto la padrona di casa Rosa aveva anche parlato con Gloria quindi sapeva che in un modo o nell'altro i soldi in quella casa giravano e come? nonostante ciò Gloria le aveva detto onestamente io non posso tenermi soldi altrimenti mi mettono le mani addosso e guarda cosa mi fanno sono piena di lividi Rosa lo dice, lo sottolinea Gloria era sempre piena di lividi questo vuol dire che veniva picchiata costantemente quotidianamente a questo punto arriva un momento durante il processo in cui è necessario far luce su un fatto cruciale Gloria quel lavoro lo faceva sì ma per obbligo o per scelta? la cosa non è ancora chiara e più delle volte infatti Gloria sostiene di farlo per scelta perché le piace col tempo però inizia a dire che era minacciata da Loide quindi non aveva altra scelta altrimenti Loide maltrattava non solo lei ma anche i suoi figli purtroppo a quanto pare Gloria era obbligata ad andare in strada non aveva altra scelta aveva una paura folle che Loide facesse del male ai suoi figli Carmela sostiene che col tempo ha iniziato a vedere Gloria con diversi lividi così come i suoi bambini lei però usava quelle scuse che usano ahimè più o meno tutte le vittime di maltrattamenti Gloria dice sono caduta sono caduti anche i miei bambini ci siamo fatti male quei bambini però era chiaro non stessero affatto bene o meglio erano profondamente spaventati emerge quindi con sicurezza che Gloria era obbligata con le botte ad andare in strada ma chi aveva avuto l'idea di sfruttarla davvero? Loide? Salem? entrambi? dato che Loide in questo processo decide di rilasciare solo dichiarazioni spontanee la prima persona che viene sentita è Salem l'uomo racconta che nel 2016 col fine di far conoscere a Loide i suoi genitori partono per l'Egitto Loide si trattiene per 15 giorni mentre Salem rimane per 45 giorni questo chiaramente vuol dire che Loide rientra in Italia ben prima di Salem quindi Salem si trattiene in Egitto circa un mese in più chiaramente lui e Loide si sentono spesso al telefono e proprio durante una di queste telefonate Loide dice a Salem testuali parole Salem mi sono trovata un lavoro Salem è felice quindi risponde dai sono contento per te finalmente di che lavoro si tratta? è qui che la situazione inizia a farsi un po' strana perché Loide gli risponde eh ma non te lo posso dire quando torni te lo spiego Salem ancora non ha inteso pensa che Loide stia scherzando quindi insiste Loide quindi a questo punto dice quando rientri in Italia te lo dico non posso dirtelo per telefono Salem però non si arrende perché sente che c'è davvero qualcosa che non va se lo sente e infatti Loide ammette qual è il suo nuovo lavoro dicendo testuali parole ho fatto questo sostituire Gloria Salem risponde confuso scusa cosa vuol dire quella parola? Loide ribatte ridendo le ho fatto fare la p***tana amò Salem a questo punto risponde a Loide non riesci a trovarti un lavoro più onesto? Ma soprattutto io e Eddie mio fratello possiamo starne fuori da questo tuo lavoro? Salem non attende neanche una risposta chiude la chiamata in faccia a Loide è furioso il punto il punto è che Salem per quanto possa essere arrabbiato quando ritorna dall'Egitto va a casa di Loide e ci rimane Loide in tribunale sostiene che in realtà Gloria faceva quel lavoro di strada da quando aveva 13-14 anni perdonatemi ma quando ho sentito questa affermazione sono rimasta alquanto perplessa quindi vi faccio la domanda fatemi sapere se conoscete la risposta se si è in una casa famiglia è possibile uscire di casa quando si vuole da minorenni per andare a fare cose simili all'oscuro degli assistenti sociali inoltre Gloria una volta uscita dalla casa famiglia lavorava per conto di persone che smerciavano sostanzine Salem a quanto dice aveva anche provato a parlare con Gloria gli aveva detto che se voleva trovare un lavoro onesto l'avrebbe aiutata lui con molto piacere Gloria però gli aveva risposto Salem questo è un accordo tra me e Loide non ti mettere in mezzo Salem dunque aveva accettato la risposta stizzita di Gloria insomma aveva capito Gloria gli stava dicendo di non intromettersi di farsi i patti suoi cosa che Salem fa da questo momento in poi dopo parecchio tempo l'ufficiale giudiziario finalmente li caccia di casa questo vuol dire che vengono sfrattati decidono dunque di cambiare zona vanno in Corso Lazio e occupano un appartamento che originariamente era stato assegnato ad una donna anziana che era in ospedale i vicini di casa ovviamente si accorgono che qualcuno sta occupando quell'appartamento abusivamente bussano alla porta spesso vedono Gloria e le dicono di andarsene ma Gloria risponde sempre a tutti guardi no non posso andarmene io ho due figli dove vado non so dove andare a dormire non ho una casa col tempo quindi tutti si arrendono nonostante sia una conoscenza del fatto che quell'appartamento si è occupato abusivamente smettono di lamentarsi anche perché in quell'appartamento in effetti ci sono due bambini minorenni anzi una ragazza del palazzo che studiava per diventare parrucchiera di nome Georgia era anche solita andare a casa loro col fine di fare i capelli a Gloria che col lavoro che faceva doveva essere sempre ben pulita e sistemata ebbene dovete sapere che questa vicina di casa non aveva neanche finito la scuola quindi non voleva essere pagata stava semplicemente facendo un favore a Gloria niente di più ma Salem obbligava Gloria ogni volta a darle 20 euro Gloria è arrivata a dire a Georgia ascolta devi prendere questi soldi altrimenti Salem si arrabbia di brutto e si arrabbia con me in un'altra occasione Georgia la ragazza che appunto fa i capelli a Gloria nota un taglio profondo sul cuoio capelluto più o meno al centro della testa Gloria si giustifica dicendo imbarazzata che è caduta e ha sbattuto la testa contro il termosifone resta infatti che è impossibile farle i capelli bensì è necessario occuparsi della ferita un'altra vicina di casa di Gloria di nome Stefania testimonia dicendo che conosceva Gloria da anni in quanto è la nipote di sua madre e insomma Stefania sostiene di aver visto delle situazioni a dir poco spiacevoli Stefania infatti sostiene che nel mese di gennaio del 2017 era affacciata al balcone della sala da pranzo e poteva vedere l'appartamento occupato da Gloria che stava esattamente di fronte a lei era tarda notte e proprio in quell'occasione aveva visto Gloria entrare in soggiorno seguita da Salem che le aveva mollato uno schiaffo in pieno volto per poi spintonarla fino a farle sbattere la testa contro la finestra del soggiorno dopo tre o quattro giorni anche Stefania aveva notato il taglio profondo che Gloria aveva sul capo quel taglio che più persone hanno già descritto durante il processo ma adesso passiamo alle dichiarazioni di Loide che aprono uno scenario totalmente diverso a quanto dice Loide del prete Salem era un uomo violento e lo era sempre stato Loide racconta che ovviamente all'inizio era tutto perfetto ed illiaco Salem era molto dolce e comprensivo ecco perché si era innamorata di lui Loide quindi ad un certo punto era andata a trovarlo dentro di lei però sentiva che con Salem non ci doveva andare tanto che aveva chiamato il suo ex marito che lavorava in fabbrica per dirgli vieni da me legami alla sedia perché io non ci voglio andare in ogni caso anche se voleva essere legata alla sedia Loide incontra Salem alla stazione Termini per la precisione i due quindi si erano incontrati e si erano poi recati in un albergo di vicino ebbene in quella stanza dell'albergo Salem secondo la versione di Loide l'aveva picchiata la donna sottolinea in tribunale non era un menare normale io ho sentito dolore fisico io vorrei seriamente capire a cosa si stia riferendo Loide qualsiasi persona che viene picchiata ferocemente così come lei descrive i suoi maltrattamenti prova dolore ascoltandola durante il processo mi è parsa davvero molto molto confusa oppure molto furba Loide era furba o era confusa? era confusa per quello che era successo? era confusa perché la colpevole era lei quindi aveva dovuto costruire una storia totalmente fittizia che però non stava in piedi del tutto? purtroppo è difficile da capire ma noi ci proviamo comunque Loide quindi continua dicendo che ovviamente si era messa ad urlare quindi era giunta una guardia che però parlava in arabo Salem quindi si era calmato altrimenti avrebbero dovuto chiamare i carabinieri inoltre l'uomo a questo punto si era messa a piangere diceva tra le lacrime a Loide che gli dispiaceva non voleva assolutamente alzarle le mani le aveva dunque promesso che non sarebbe più accaduta una cosa del genere Salem in risposta a questa circostanza dice che lui quella sera non aveva assolutamente messo le mani addosso a Loide quell'albergo secondo ciò che dice Loide era gestito da egiziani Salem però sottolinea che quello era un albergo normalissimo gestito da italiani i due si erano recati in quell'albergo solo per stare in intimità Salem spiega che lui quella sera mica l'aveva picchiata non avevano neanche litigato ma soprattutto non era arrivata nessuna guardia che parlava arabo anzi a detta di Salem i due avevano passato anche una notte in quanto piacevole invece Loide insiste con la sua versione dei fatti era stata picchiata da Salem ed era rimasta spiazzata da quella situazione perché aveva frequentato Salem e nei suoi confronti non si era mai dimostrato violento neanche una volta però Loide sostiene che da quel momento l'uomo aveva iniziato ad essere geloso possessivo ossessivo non si allontanava mai da Loide Loide non poteva comunicare con i suoi genitori senza mettere viva voce durante la chiamata perché Salem voleva sentire tutto quello che si dicevano Loide per di più sostiene che Salem continuava a metterle le mani addosso ed era arrivato addirittura a dirle è normale che io faccia così con te Loide in quanto tu hai questa mentalità italiana che non va bene devi fare come le nostre donne non devi dare confidenza a nessuno non devi rispondere a nessuno se ti metto le mani addosso è per il tuo bene ti faccio un esempio prendi un animale come il cavallo è un bel animale no? va curato va lavato pettinato poi però va anche frustato se non corre Salem dal canto suo ribate che non aveva mai tenuto segregate in casa Loide né mai le aveva fatto tutte quelle pressioni Loide però insiste dice che i maltrattamenti c'erano e come erano all'ordine del giorno tanto che ormai era convinta che quella vita fosse normale era convinta che alla fine se Salem le metteva le mani addosso la colpa era sua ma se da una parte abbiamo Loide che dipinge Salem come un mostro dall'altra abbiamo la testimonianza di Salem che al processo dice che le cose non erano proprio come le aveva descritte Loide infatti secondo Salem era lei quella che non lo lasciava libero un solo secondo era lei che non gli permetteva di uscire da solo perché era gelosissima Salem infatti racconta che se per caso lui e Loide erano in macchina e lui veniva osservato da una ragazza più giovane o osservava una ragazza più giovane Loide andava in escandescenze apriva la portiera e gli diceva ah ti piace quella dai vai da lei tanto io sono più vecchia di lei no e allora dai scendi vai da lei Salem quindi doveva per forza scendere dalla macchina si era ritrovato a piedi più volte a causa della gelosia di Loide a processo Salem dice mi lasciava per strada come un cane e neanche i cani si abbandonano secondo Salem Loide voleva avere l'ultima parola su tutto a 360 gradi era Loide a mettere le mani addosso a Gloria Salem ammette che di solito cercava di calmare le acque cercava di dividerle per evitare di disturbare i loro vicini di casa ma Loide gli rispondeva sempre questa è una mia parente decido io faccio quello che mi pare poi lo cacciava di casa un'inquilina del palazzo infatti una mattina scendendo da casa per andare a lavoro si era ritrovata Salem sotto casa davanti all'ascensore la donna quindi gli aveva chiesto delle spiegazioni dicendogli Salem ma che ci fai qua lui aveva risposto eh no niente Loide mi ha solo cacciato di casa a questo punto c'è una testimonia oculare è sicuro che Salem era stato cacciato di casa da Loide ma Loide non era la persona perennemente soggiogata maltrattata rinchiusa in casa ipercontrollata a me qualche dubbio viene Loide però insiste con la sua versione dicendo che sì c'erano anche dei momenti in cui si scherzava in cui c'era un minimo di serenità però ciò che pretendeva Salem era ubbidienza e sottomissione Loide non poteva intromettersi in nulla e qualsiasi discussione tra Salem e suo fratello Eddie per Gloria e Loide sono incomprensibili perché parlano sempre in arabo inoltre secondo loro le donne non dovevano avere voce in capitolo in niente dovevano starsene lì zitte e buone senza protestare Loide in tribunale insiste dicendo lui non mi menava in modo normale qualche schiaffo o mi strillava e già quello non era accettabile lui mi picchiava quel sandalo egiziano quello di cuoio in testa fino a quando non cadevo per terra e lui continuava continuava quando mi menava non potevo neanche alzare la voce perché lui non voleva più urlavo più mi menava io non potevo strillare però il dolore fisico era tanto come faceva a non strillare delle volte ce la facevo altre volte non ce la facevo Salem in aula ammette di aver messo le mani addosso a Loide in quattro occasioni diverse sempre in risposta a dei suoi comportamenti maneschi Salem dice ero io che reagivo quando lei mi picchiava Loide a questo punto inizia qualtomeno in aula a parlare al plurale sostiene che quando le picchiavano alzavano lo stereo per non far sentire le urla delle ragazze e in questo caso Loide sta dicendo chiaramente che a mettere le mani addosso a lei e a Gloria sono Salem e suo fratello Edi Loide racconta che in un'occasione in particolare Salem era andato così tanto oltre che aveva deciso di chiamare la polizia i vicini di casa in effetti avevano visto Loide e Gloria fuori da casa loro davanti alla porta d'entrata in procinto di chiamare le forze dell'ordine ma cosa dice Salem di questa situazione? L'uomo sostiene che quella sera Loide stava pestando Gloria a sangue lui si era messo in mezzo come al solito ma Loide quella sera non si fermava per nessun motivo non riusciva a bloccarla quindi Salem per far cessare la situazione dice a Loide o la smetti o io adesso ti lascio e me ne vado Loide quindi aveva iniziato a prenderla a schiaffi Salem aveva reagito e di conseguenza Loide gli aveva risposto con aria di sfida ah sì? mi metti le mani addosso? ora ti denuncio e sono io che ti caccio fuori da questa casa Salem quindi era andato a svegliare a Eddie dicendogli alzati perché Loide ci sta cacciando di casa a questo punto secondo la versione di Loide Eddie che si era appena svegliato si era arrecato in salotto incazzato nero aveva scaraventato il tavolo del soggiorno per terra per poi dire a Loide fa fare solo un'ora di carcere a me o a mio fratello e te la faccio pagare cara me la prendo con la tua famiglia e anche con quella di Gloria all'arrivo del poliziotto Loide aveva implorato Gloria di aiutarla di parlare Gloria però aveva troppa paura non voleva assolutamente parlare Loide in tribunale dice negli occhi di Gloria io vedevo la paura l'unica cosa che mi diceva era ma io che gli devo di il poliziotto comunque aveva deciso ugualmente di chiamare un'autoambulanza era quindi giunta un'autoambulanza in cui erano salite Gloria Loide e i due bambini Gabriele ed Emanuele e in effetti i bambini Gloria e Loide presentavano delle lesioni dai referti medici dell'ospedale sembrerebbe Salem l'uomo cattivo l'uomo violento Loide quindi era una vittima al pari di Gloria questa è una domanda lecita ma l'accusa è convinta che la donna stia mentendo Loide sostiene che dopo essere stata refertata era tornata a casa dei suoi genitori mentre Gloria era rimasta in ospedale con i bambini Loide torna spesso a visitare Gloria in ospedale ma arriva un giorno in particolare in cui Loide va all'ospedale proprio per stare vicino a Gloria per darle coraggio perché a questo punto avrebbe dovuto parlare raccontare tutto avrebbe dovuto dire la verità Salem la picchiava selvaggiamente e le faceva davvero molto molto male Gloria però secondo Loide si era immediatamente tirata indietro perché aveva sentito che gli assistenti sociali avrebbero sicuramente portato via i suoi bambini per metterli in un posto sicuro ecco perché Gloria decide di prendere i figli e andarsene però secondo i due fratelli Salem e Hedy le cose sono andate in modo ben diverso raccontano infatti che Loide prima aveva chiamato le forze dell'ordine col fine di vendicarsi del compagno ma successivamente se ne era immediatamente pentita infatti mentre avevano deciso di lasciare quella casa per sempre Loide cercava in tutti i modi di fermarli li seguiva per strada in macchina gli chiedeva scusa i due quindi avevano deciso di ritornare a casa almeno lì avevano un tetto sopra la testa e un letto in cui dormire sebbene in ritardo gli assistenti sociali si muovono in quanto arriva loro una segnalazione in una casa a Corso Lazio c'era stato un forte diverbio e due ragazzini erano stati refertati per cinque giorni gli assistenti sociali si erano dunque recati a casa di Loide in compagnia di un vigile urbano ma avevano potuto constatare che la situazione era tranquilla in quel momento in casa c'erano solo Loide e Gloria le due quindi avevano spiegato che non era accaduto tutto ciò che aveva detto la questura i ragazzini non erano mai andati al pronto soccorso e le cose erano a posto da questo momento in poi Gloria e Loide si recano dagli assistenti sociali una volta a settimana massimo una volta ogni dieci giorni un assistente sociale quindi sente i bambini fa quello qui con loro parla anche con Gloria fino a quando non arrivano gli zii di Emanuele e Gabriele ossia i genitori di Loide in una circostanza esatta il padre di Loide racconta che era a casa sul divano col bambino più piccolo Gabriele stavano giocando tranquillamente fino a quando era arrivato Salem appena Salem era entrato dicendo sono venuto a prendere Gabriele il bambino si era aggrappato alle gambe del padre di Loide poi aveva iniziato ad urlare no no io non ci voglio andare no no Gabriele era così spaventato che si era fatto la pipì addosso Salem in ogni caso aveva afferrato Gabriele e lo aveva portato via con la forza ma secondo Loide successivamente era avvenuto qualcosa di davvero molto molto grave era una domenica mattina Gloria stava guardando i cartoni animati con i figli mentre Loide si era alzata un po' prima per preparare la colazione per tutti Salem si era svegliato poco dopo Loide si era svegliata presto quella mattina e lui doveva sempre starle dietro tenerla d'occhio quindi si era alzato anche lui per poi dirigersi sul divano accanto a Gloria Salem quindi si era seduto e con arroganza aveva chiesto a Gabriele che fai non me lo dai il buongiorno e solo per questo motivo di nuovo Gabriele si era fatto la pipì addosso quando Salem se n'era accorto aveva preso Gabriele lo aveva sollevato in aria per poi sbatterlo a terra violentemente facendogli picchiare chiaramente la schiena a quel punto però Salem aveva capito di aver fatto del male a Gabriele quindi aveva fatto di tutto per soccorrerlo poi poco dopo Gabriele aveva vomitato sangue Loide sostiene che sia lei che Gloria avevano insistito per portare il bambino all'ospedale ma né Salem né suo fratello erano d'accordo niente più ospedali niente più pronto soccorso gli avevano dunque preparato una camomilla lo avevano fatto stendere sul divano e a quanto pare Gabriele in un paio di giorni si era ripreso da solo non era mai andato in ospedale non aveva mai fatto nessun esame e non aveva mai preso nessuna medicina l'attenzione a questo punto si sposta sui due bambini Eddie sostiene che i bambini ossia Emanuele di 5 anni e Gabriele di 3 anni lo adoravano letteralmente il più piccolo lo aveva conosciuto quando aveva circa un anno e ancora non parlava e non camminava benissimo Eddie sostiene che la prima parola che aveva pronunciato era il suo nome perché era molto semplice Eddie e lui glielo ripeteva spesso non lontano da casa c'era anche un bar che Eddie frequentava abbastanza di frequente con i bambini comprava loro il gelato e il barista testimonia dicendo che per quanto aveva visto Eddie aveva un bellissimo rapporto con i figli di Gloria Eddie era davvero molto affettuoso e anche i bambini con lui erano molto affettuosi anche la madre di Gloria Carmela sostiene che in sua presenza Eddie si era sempre comportato benissimo però Carmela dice anche che vedeva sua figlia perennemente mogia e triste attribuiva ovviamente questo stato d'animo alla sua situazione sentimentale non era innamorata di Eddie ma era sua moglie e dietro il loro matrimonio non c'era mai stato realmente neanche un briciolo di amore non si erano approcciati per caso non si erano conosciuti ma soprattutto non si erano piaciuti il loro matrimonio era stato programmato a tavolino solo per permettere a Eddie di ottenere il permesso di soggiorno dal processo però emerge un altro dato certo Gloria amava follemente i suoi bambini e viveva nel terrore di perderli proprio a causa della sua professione questo avrebbe fatto crescere in lei il desiderio di cambiare vita Gloria voleva smettere di lavorare in strada voleva trovare un lavoro normale mantenere sei i suoi figli in modo dignitoso insomma non ce la faceva più vivere in quelle condizioni un giorno mentre Salem e Loide sono fuori casa ricevono una chiamata da Gloria che preoccupata riferisce a Loide di essere stata vista da qualcuno secondo Salem Loide risponde al telefono a Gloria Tana vuoi che ti portano i miei figli prendi un taxi e vai a casa finché non torno ci penso io a te sempre secondo Salem rientro a casa Loide prende a schiaffi Gloria poi le prende il telefono e non glielo restituisce più da questo periodo Gloria rimane senza cellulare quindi nessuno può più contattarla la storia di Gloria Pompili mi mette rabbia perché mi sembra la storia di una ragazza che non si è mai potuta difendere in quanto era soggiogata dalla volontà di tutti gli imputati la ragazza era ormai super controllata e spaventata mentiva tutti perché non sapeva a chi o come chiedere aiuto nel frattempo però l'agitazione di Gloria inizia a diffondersi inizia ad essere un po' generale Loide si rende conto di quanto si è spaventata si preoccupa quindi anche lei decide quindi di portarla su un'altra strada per farla lavorare e per poterla controllare ancora meglio Loide decide di far lavorare Gloria a Nettuno dove Sale e Loide gestiscono un negozio di frutta e verdura arriva però un momento in cui la situazione degenera a quanto pare Gloria il giorno di ferragosto del 2017 prova a scappare di casa Loide la porta a lavorare la mattina ma quando la va a riprendere non la trova più Gloria chiama solo il giorno dopo Salem chiedendogli se può andarla a recuperare alla stazione di Lavinia Salem ovviamente va a prendere Gloria e poi la riporta a casa una volta tornata a casa Loide inizia ad insultare pesantemente Gloria lei inizia a dire dove sei stata tutta la notte neanche la p***a sai fare una vicina sostiene di aver sentito un gran baccano e la voce di Gloria che diceva scusa 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 basta basta prometto non lo faccio più secondo Loide Gloria in questa circostanza l'ha fatta davvero grossa quindi chiede a Salem di unirsi con lei di picchiarla con forza cosa che Salem fa con un frustino Loide contemporaneamente continua a prendere a schiaffi Gloria urlandole di stare ferma e di non muoversi Salem a questo punto alza da terra Gloria con una sola mano prendendola per i capelli e certo è processualmente accertato che negli ultimi tempi della breve vita di Gloria per la precisione nell'agosto del 2017 ogni giorno aveva un libido nuovo in faccia una volta era un occhio nero un'altra volta era la faccia gonfia altre volte aveva dei tagli addosso arrivati a metà agosto la situazione era davvero sfuggita di mano la quotidianità secondo Salem era formata solo da insulti violenza sputi secondo Loide invece era Salem che picchiava Gloria e la violenza era diventata davvero insopportabile e insostenibile pur scaricando la colpa l'uno sull'altro i due imputati concordano sul fatto che la situazione era sfuggita davvero di mano arriva la mattina del 23 agosto una vicina di casa nota Salem seduta in macchina al posto passeggero mentre traffica con il cellulare poco dopo esce da casa anche Loide che sembra incazzata come una iena subito seguita da Gloria Loide apre la portiera fa segno a Gloria di salire in macchina e quando Gloria sale in macchina e si siede sul sedile riceve tre cazzotti in testa da Loide che poi chiude la portiera borbottando e si dirige verso il posto di guida parte fa pochi passi con la macchina poi si ferma di nuovo esce di nuovo dalla macchina si dirige verso la portiera posteriore la apre afferra Gloria la trascina fuori dalla macchina e rincomincia a dargli una serie di cazzotti sulla testa Loide risbatte in macchina Gloria entra in macchina anche lei e alla fine partono tutti quanti alla volta di Nettuno dove per l'appunto gestiscono un negozio di frutta e verdura un cliente nota chiaramente verso l'ora di pranzo che dentro quel negozio ci sono tre persone una ragazza giovane ossia Gloria una donna un po' più grande ossia Loide e un uomo ossia Salem il cliente può testimoniare su un fatto certo oramai a maltrattare Gloria e la ragazza più giovane sono sia Loide che Salem nonostante le botte subite Gloria viene comunque portata in strada in via della campana a Nettuno alle 15.04 le telecamere di sicurezza di un negozio non lontano da lì riprendono una ragazza che entra per acquistare un Kinder Bueno e una Coca Cola quelle sono le ultime immagini che si hanno in vita di Gloria Pompili nonostante sia dolorante viene lasciata in strada fino alle 8 di sera è possibile ricostruire ciò che è successo dalle 8 fino alla sua morte solo grazie ai racconti di Loide e di Salem Salem racconta quindi che lui e Loide stanno al negozio più o meno fino alle 19.30 nel pomeriggio tra l'altro gli hanno raggiunti anche i figli di Gloria Emanuele e Gabriele tutti insieme quindi chiudono il negozio e vanno a recuperare Gloria Loide sta guidando Salem è seduto a fianco a Loide Gloria è seduta sul sedile posteriore proprio dietro Loide Gloria quindi consegna a Loide i soldi che ha guadagnato quel giorno ma per Loide quei soldi sono solo spicci ormai Gloria non guadagna più come prima e questo è un buon motivo per arrabbiarsi di nuovo durante il tragitto Loide ferma di continua la macchina solo per afferrare Gloria tirarla fuori di peso dalla macchina e picchiarla sempre sulla testa e sui fianchi non solo a mani nude ma anche con un bastone rinfilarla in macchina e ripartire tutto questo accade durante il tragitto mentre stanno facendo ritorno a casa secondo la versione di Loide è Salem ad arrabbiarsi quindi è lui ad obbligare lei a fermarsi prende Gloria la trascina fuori dalla macchina le prende un polso e poi glielo gira dietro la schiena per poi colpirla ripetutamente sul lato sinistro del costato all'altezza della milza questo ahimè provoca lo spappolamento della milza si verifica a questo punto un'importante emoragia che porterà alla morte di Gloria Pompili ben presto Gloria dice a Loide con voce soffocata non riesco a respirare sto veramente male Salem a questo punto si gira guarda Gloria e si rende conto che è pallidissima a stento respira Loide accosta in un'area di sosta di fronte a un hotel si ferma Salem apre lo sportello tira fuori dalla macchina Gloria prova a farle la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco anche se non l'ha mai fatto in precedenza quando si rende conto che i suoi massaggi cardiaci sono inutili chiama i soccorsi dicendo siamo qua sulla Montelipini c'è una ragazza che è tutta tutta è stata menata l'operatore del 118 chiede scusi ma a che altezza della Montelipini Salem risponde scusa questa ragazza è tutta fredda non respira l'operatore ribatte ho capito dove Salem quindi chiede a Loide come si chiama questo hotel amo Loide urla sweet Salem quindi torna al telefono e dice siamo all'altezza dell'hotel suite l'operatore risponde ok stiamo arrivando ma senti sta persona respira ancora Salem risponde no non respira è tutta bianca ed è anche fredda l'operatore a questo punto ribatte ok ok stiamo arrivando stiamo arrivando all'arrivo i soccorsi provano a rianimare Gloria per 20 minuti poi si rendono conto che purtroppo non c'è niente da fare Gloria muore davanti ai suoi figli che hanno 3 e 5 anni vengono successivamente portati nella casa famiglia in cui era cresciuta anche loro madre e proprio qui ad un assistente sociale e a loro vicina fanno un drammatico racconto a quanto dice questa assistente sociale inizialmente Emanuele e Gabriele ripetono come una cantilina mamma è morta mamma è morta mamma è morta fino a quando un giorno Emanuele di 5 anni dice all'assistente sociale posso dirti un segreto però te lo dico all'orecchio si guarda attorno si accerta che non ci sia nessuno nelle vicinanze e poi dice sussurrando zio Salem è cattivo l'assistente sociale a questo punto chiede Emanuele ma perché stai dicendo questa cosa adesso perché dici che Salem è cattivo Emanuele risponde è cattivo perché ha dato un sacco di botte a mamma tante tante botte l'assistente sociale gli chiede e perché le ha dato così tante botte Emanuele continua sussurrando perché voleva i soldi voleva i soldi l'assistente sociale quindi chiede ok e dove gliele ha date queste botte a mamma come gliele ha date Emanuele risponde gliele ha date sia in macchina che fuori dalla macchina l'assistente sociale chiede di nuovo e con che gliele ha date con le mani con i pugni ma soprattutto tu che facevi gli occhi di Emanuele secondo l'assistente sociale a questo punto sono spalancati e lucidi sembra voglia piangere Emanuele però ha anche un sacco di rabbia nello sguardo che negli occhi sbarrati non sbatte le palpebre e continua a fissare l'assistente sociale come se davanti a lui avesse un mostro quindi Emanuele risponde all'assistente sociale eh io sono stato zitto 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 sai perché avevo paura e Gabriele strillava strillava tanto e piangeva tanto forte solo alla fine di questo discorso Emanuele dice all'assistente sociale anche l'ho idea è cattiva l'assistente sociale prova a continuare quindi gli chiede perché l'ho idea è cattiva perché ora mi dici questo Emanuele però a questo punto si alza prende un libro e dice all'assistente sociale mi puoi leggere una favola? l'assistente sociale a questo punto capisce che il bambino non vuole più parlare e dal canto suo crede sia meglio non sforzarlo a dire niente anche perché sia Emanuele che Gabriele hanno vissuto un vero e proprio trauma con la morte della madre e cercano peraltro di superare questo trauma facendo dei giochi davvero inquietanti l'assistente sociale sostiene che sia Emanuele che Gabriele le chiedevano in continuazione di fare il gioco dell'autoambulanza dove lei interpretava la loro madre deceduta mentre i bambini si accingevano a farle un massaggio cardiaco per poi urlare è morta è morta è morta la situazione qui era alquanto drammatica insomma la parte centrale di questo processo a mio parere così come dice il PM è il totale disinteresse verso la vittima a nessuno importava nulla di gloria la cosa importante era che lavorasse in strada e portasse a casa i soldi di tutto il resto non importava nulla a nessuno i suoi sentimenti le sue sofferenze non avevano importanza nessuno aveva dimostrato un briciolo di umanità per quella ragazza ricostruire la verità processuale è facile sia loide che Salem vengono dichiarati colpevoli e condannati a 24 anni di reclusione ciascuno ridotti poi successivamente a 20 anni ed il marito di gloria invece viene assolto per non aver commesso il fatto ricostruire però la verità ricostruire ciò che è successo davvero è impossibile e sapete una cosa secondo me va anche bene così l'ho detto già per altri casi ma per questo caso lo sottolineo per quanto mi riguarda non importa chi abbia sferrato l'ultimo colpo è stato visto chiaramente da dei testimoni che Gloria veniva picchiata sia da Salem che da Loide Salem durante il processo dipinge Loide come una donna terribile tremenda una guzzina che obbligava Gloria a proseguirsi inizialmente Salem sostiene che Loide picchia Gloria senza motivo poi perché non guadagna abbastanza inoltre mette anche le mani addosso ai suoi figli Loide durante il processo descrive Salem come un uomo irrascibile violento colpisce non solo lei ma anche Gloria e i suoi figli queste due versioni sono possibili? certo che sono possibili c'è anche un'altra opzione possibile sia Salem che Loide erano violenti con Gloria entrambi nello stesso modo la maltrattavano insieme tutto ciò è possibile certo ma io non riesco ad individuare un movente plausibile per questo caso io non ci credo che dietro ci sono solo i soldi non ce la faccio l'unica cosa che mi viene in mente è la follia più totale totale in questa storia c'è la follia più totale io ho terminato di parlare in questo video e ho trovato questo caso davvero assurdo più ascoltavo il processo più andavo avanti più sbarravo gli occhi non ci credevo a quello che stavo sentendo quindi io spero che questo video possa essere stato di vostro interesse fatemi sapere se conoscevate questa storia ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia secondo voi come sono andati davvero i fatti scrivetemi tutto quello che volete qui sotto nei commenti sono molto curiosa di leggere cosa ne pensate detto questo ragazzi vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fatti bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.